Grazie Sindaca, grazie a voi. Partiamo da tre premesse. Lo sviluppo delle tecnologie radiomobili e la loro fruibilità riveste importanza per fruire di servizi digitali sempre più evoluti. Primo. Secondo, le tecnologie 5G garantiscono una velocità, lo accennava la Sindaca, fino a mille volte superiori a quelle del 4G, quindi sono sicuramente abilitanti di tutto quello di cui si sente parlare da tanti anni ma che si fa fatica a fare, l'internet delle cose, la smart mobility, la sicurezza come accennava la Sindaca, l'intrattenimento perché no, quindi l'uso massivo di 3D, di realtà aumentata che già esiste come tecnologia, solo che richiede molta più banda, molta più connettività. Terzo ma non ultimo, il piano di azione della Commissione europea, del 14 settembre dell'anno scorso, quindi un anno fa, hanno fatto un piano di azione in cui chiedevano il dispiegamento progressivo ma tempestivo del 5G, in particolare chiedevano di promuovere azioni concrete per raggiungere tre obiettivi. Uno, sperimentazioni preliminari, ecco perché siamo qua, nell'ambito degli accordi 5G-PPP, cioè il partenariato pubblico-privato, a partire dal 2017, sta finendo 2017, ecco perché siamo qua, con una chiara dimensione anche trasfrontaliera, quindi nel rapporto anche con altre amministrazioni europee, a partire dal 2018 e alle porte. Due, incoraggiare gli Stati membri a sviluppare, entro la fine del 2017, tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del 5G. È quello che accennava la sindaca che ha fatto il Mise, è quello che aggiungiamo e continuiamo a fare noi, perché sono di fatto parte dei piani nazionali a banda larga. Tre, garantire che almeno una grande città in ogni Stato membro si è abilitata al 5G. Queste sono le premesse, Roma ha inteso esattamente muoversi in questa direzione, ha inteso muoversi esattamente in questa direzione anche perché vuole, vogliamo essere un laboratorio nazionale di innovazione e questo è uno strumento del quale non si potrà più fare a meno presto. Dicevamo Roma non è stata inserita nell'area di sperimentazione, ma vogliamo essere in prima fila ed è per questo il motivo per cui ci muoviamo di fatto autonomamente. Tra l'altro, a partire dal gennaio 2017, Roma Capitale è stata inserita nell'ambito dell'Urban Agenda, dell'Agenda Urbana dell'Unione Europea, nella partnership sulla digital transition, quindi sulla transizione al digitale, non so come dirlo meglio, che ha come obiettivo, oltre che fornire ovviamente migliori servizi ai cittadini, anche maggiori opportunità di business, attraverso le tecnologie 5G. Quindi tutto conferma che questa è la scelta che dobbiamo fare. Per conseguire questi obiettivi, ovviamente c'è bisogno di un partner che ne abbia le competenze. Attualmente Fastweb è il principale fornitore, oltretutto è già un fornitore di Roma Capitale, perché con noi ha sottoscritto un accordo SPC Consip, SPC sta per sistema pubblico di connettività. Quindi Roma a suo tempo ha scelto Fastweb sia per le infrastrutture tecnologiche che per l'IoT, quindi l'Internet delle cose, per i Wi-Fi. E ultimo, ma non ultimo, non sono previsti, oneri e quindi è una prima, tanto l'avreste chiesto, ve lo dico prima, è una fase di sperimentazione. Su questo noi vogliamo intervenire, anche perché se avete letto, come sono certa avete fatto, le linee programmatiche 2016-2021 di questa amministrazione e l'agenda digitale che abbiamo pubblicato a febbraio, erano già segnate queste cose. Le stiamo passo 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 portando avanti. Grazie.